Oltre 18 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR per la città di Biella è quanto ha comunicato il Ministero dell'Interno con una nota del 31 dicembre scorso riconoscendo in questo modo la bontà di ben 13 progetti che l'amministrazione comunale di Biella ha presentato al bando previsto dalla legge di bilancio 2020 le cui domande scadevano il 4 giugno dello scorso anno a sostegno di investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado nonché a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale sono risorse importanti che premiano la capacità progettuale dei comuni accanto alle risorse del PNRR alcuni interventi verranno cofinanziati dagli enti locali consentendo così di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte sottolinea il Presidente Cirio complimenti dunque alla città di Biella per questo importante lavoro